Al Ministero delle Imprese in via Veneto è in corso la mostra Guglielmo Marconi e le onde del Made in Italy nel prestigioso Palazzo Piacentini sono esposte le invenzioni del luminare per il 150esimo anniversario dalla sua nascita. Sarà possibile ammirare 19 oggetti Cimeglio che raccontano l'esperienza scientifica vissuta tra ricerche e sperimentazioni sull'elettromagnetismo e non solo. Guglielmo Marconi è stato non solo un inventore straordinario ma è stato anche un imprenditore illuminato. La sua carriera è costellata di brevetti perché Marconi capì immediatamente che nel momento in cui sperimenta deve brevettare per proteggere la sua idea, il suo trovato. I brevetti sono decine, noi qui in Mostan abbiamo selezionato due importantissimi. Il primo è proprio il primo brevetto che deposita Marconi a Londra nel 1896 ed è proprio l'inizio della sua carriera. Questo brevetto riguarda gli apparecchi per le trasmissioni wireless, ovvero senza fili, ed era una novità assoluta all'epoca. La mostra è nata per mettere a disposizione di tutti parte del considerevole patrimonio scientifico e documentale riguardante Marconi, custodito all'interno del Museo Storico della Comunicazione. Nel nostro caso il Mimit ha il Museo della Comunicazione che conserva un patrimonio davvero straordinario, non solo perché è molto importante ma perché è anche molto originale. E conserviamo molti strumenti legati appunto all'evoluzione della comunicazione e tra di essi spiccano gli strumenti realizzati da Guglielmo Marconi utilizzati nei vari esperimenti nel corso della sua lunga e brillantissima carriera, di cui ne vediamo una parte qui in mostra. Il Mimit ha anche una biblioteca molto ricca che può offrire agli utenti una vastissima selezione di volumi e anche di documenti utilissimi per lo studio, per la conoscenza, ma non soltanto di esperti di specifiche materie ma anche per gli studenti che possono venire qui e approfondire alcuni aspetti del loro percorso didattico.